Buongiorno a tutti, mi sono chiesto di riassumere brevemente i motivi per cui stiamo costruendo questo eco villaggio. L'idea sostanzialmente è che, è un'idea vecchia, cioè per cambiare veramente il mondo servono persone che pensino in maniera diversa, e queste persone pensino in maniera diversa devono anche vivere in maniera diversa, perché il modo in cui noi viviamo determina il modo in cui noi pensiamo e come possiamo agire. Quindi l'idea è quella di costruire un posto che partirà anche trasferito da 30 anni e che è appunto un luogo dove non continuativamente, ma per dei periodi abbiamo cercato di creare momenti di lavoro, di svago, di riposo, di formazione culturale diversi e delle relazioni diverse dalle persone, a partire dalle persone che lavorano a Alcatraz, rapporti basati sul rispetto, basati sul riconoscimento del valore delle persone. L'idea è che se costruiamo un villaggio che è ecologico, che ha consumi bassissimi, anzi produce più energia di quella che consuma, che è in un bel posto e che raccoglie delle persone che sono interessate alla condivisione, alla cooperazione e anche delle strutture che invogliano questa collaborazione, ad esempio c'è la lavanderia collettiva, c'è il sistema di irrigazione che è collettivo, c'è una grande sala dove si possono fare feste, ma anche corsi, iniziative, spettacoli, per cui ci sono degli spazi che permettono di organizzare dei momenti di vita e di lavoro diversi, sia possibile creare un muro diverso di vivere. qui scatta subito il grosso problema, la grossa discussione, cioè che regole deve avere in questo posto? Ecco, l'econisaggio solare è un luogo che non ha delle regole, se non quelle del buon senso.